A Muro, a Tratti, siete stati veramente eccezionali. Siamo stati eccezionali, penso, in tutta la serie, non solo stasera. Abbiamo avuto quella battuta d'arresto a Perugia, ma io l'avevo detto anche a casa ai miei parenti, alla mia fidanzata. Avevo quella sensazione che comunque nel quarto set a Perugia avevamo fatto 13 errori, 14 errori, una battuta e punto. Ed ero convinto che potevamo anche portarla a casa lì. E oggi, a un certo punto, come è successo l'anno scorso, lo guardate e gli ho detto che secondo me ce la facciamo. E oggi è stato bellissimo, è stato alle male lingue che ci volevano morti. E alla fine l'abbiamo portata a casa anche quest'anno. Avete arrabbiati, delusi a Perugia, però vincere di fronte al proprio pubblico con questa festa vale doppio. Ma, sai, vincere in casa è bello. Io sarei stato contento anche di finire domenica, perché oggi si vedeva che sia da noi, da allora eravamo un po' stanchi. Ma è bello vincere in casa con tutti questi tifosi, con tutta questa gente che ci ha accolto. Vedere la fila fuori in parcheggio i giorni scorsi è solo un motivo di orgoglio e l'abbiamo ripagato. Vado, ciao!